Sarà Timoti Nocchi, classe 1990, il portiere over del Monopoli. Un'operazione di mercato che si è resa necessaria dopo l'infortunio occorso a Vettorel, che lo terrà lontano dai campi di gioco, almeno per un mese. Nocchi potrebbe giocare titolare già dall'impegno contro l'audace Cerignola, in programma sabato alle ore 20.30, allo stadio Vito Simone Veneziani. Nella passata stagione ha difeso i pali del Catanzaro, collezionando 5 presenze in campionato e 5 in Coppa Italia. L'anno prima aveva giocato con la Juve Next Gen, con 14 gettoni e 21 reti subite in campionato, 16 gettoni tra la stagione 2018-2019 e la 2019-2020. L'anno prima invece aveva giocato con il Perugia in Serie B. Per quanto riguarda l'assetto tattico, la terza potrebbe abbandonare il 4-2-3-1 a vantaggio del 4-3-3, anche per fronteggiare il centrocampo di pazienza, che conta un regista e due mezze ali. A tal proposito potrebbe scoccare l'ora di Carlo Delisio dal primo minuto. Il centrocampista abruzzese ha smaltito le placche influenzali ed è disponibile per giocare sin da subito contro una delle squadre più in forma del torneo.